Si sa, in fotografia il colore è importante ed è per questo motivo che tutti quanti fotografi e videomaker cerchiamo sempre di avere i colori quanto più perfetti possibili nelle nostre immagini e nelle nostre riprese ma non sempre ci riusciamo. Nel corso del video di oggi vado a farvi vedere quello che è un piccolo trucchetto che sto utilizzando molto di frequente in questi ultimi tempi e che mi aiuta moltissimo a ottenere un colore perfettamente calibrato in tutte le mie immagini. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia soprattutto per le aziende. C'è una piccola chicca nel video di oggi perché avrete notato qualche piccola differenza di setup. Il video di oggi lo state vedendo registrato con Canon EOS R6 quindi una fotocamera diversa da quella che utilizzo abitualmente. Le differenze dovrebbero essere abbastanza limitate in quanto comunque il colore è sempre Canon il procedimento è sempre lo stesso, sto sempre girando in log e tutto sempre uguale però è diversa l'ottica che viene montata ed è diverso il rapporto con essa perché questa è una fotocamera full frame. Bando alle ciance però noi non siamo qui per parlare di fotocamere bensì siamo qui una volta tanto per parlare di colore. Vi consiglio innanzitutto di iscrivervi al mio canale se contenuti di questo tipo possono essere di vostro interesse perché ne seguiranno degli altri e andrò di volta in volta a raccontarvi quello che mi succede e quello che imparo durante le mie giornate lavorative in maniera tale da tenervi aggiornati e perché no anche intrattenervi insegnandovi qualcosa. Cominciamo subito e non c'è modo migliore di mostrarvi un'immagine. Questa qui è una fotografia che ho fatto di recente. Come potete vedere non è una cattiva immagine però ha un difetto ovvero proprio il colore. Questa immagine chiaramente per quanto possa essere carina e per quanto attenzione possa essere recuperata in postproduzione perché questa immagine può essere recuperata in postproduzione e può essere resa assolutamente decente. Però per n motivi e chi mi conosce sa benissimo che io amo lavorare in questo modo è molto meglio avere l'immagine giusta da subito. Questo sia perché è il modo migliore di lavorare e di fare le cose, farle bene subito piuttosto che pensare tanto poi la sistemo in qualche modo. No, noi la vogliamo giusta subito e quindi la facciamo giusta subito. Quanto più giusta subito è in nostro potere fare. Il secondo motivo è che ovviamente io faccio una foto al mio gatto e capite che la cosa è morta lì e posso anche correggerla una foto al mio gatto, non muore nessuno. Ma che cosa succede invece se abbiamo sbagliato 400 foto di un servizio fotografico per un cliente? Cosa succede se abbiamo sbagliato 3000 foto per un matrimonio? Le correggiamo tutte e poi ci saranno delle differenze tra una e l'altra quindi dobbiamo andare localmente a fare 3000 correzioni su 3000 immagini? Capite bene che è sconveniente ed è per questo che oggi sono qui a farvi vedere un piccolo trucchetto che ultimamente mi sta rendendo la vita, se non più facile, sicuramente più gradevole. Molti di voi sapranno che cos'è questo. Andiamo ad aprirlo. I miei video sono sempre molto ASMR perché ci sono anche i suoni. Questo, come potete vedere, è un flash a slitta o speedlight o flash a cobra, che dir si voglia. Ha mille nomi, tanti quanti sono i paesi nel mondo. Questo è un flash con una staffa che si chiama hot shoe che noi andiamo a infilare direttamente sulla nostra fotocamera. Per la verità possiamo usarlo anche col filo o possiamo utilizzarlo anche con un trigger esterno quindi possiamo posizionarlo dove ci pare. Diciamo che per quanto riguarda questo tutorial, chiamiamolo così, per quanto riguarda questo trucchetto che vi porto oggi è stato più che sufficiente metterlo sulla fotocamera. Io vado a mettere il mio flash sulla fotocamera e qui vedete che se io vado ad accenderlo... No, in realtà non vedete niente, per cui dovrete fidarvi di me. Se io vado ad accenderlo, qui ci sono dei numerini che mi dicono la potenza del flash. La potenza è misurata in frazioni. Per cui andiamo da un intero, potenza massima, abbiamo degli step intermedi, per cui abbiamo i terzi di stop, però abbiamo un intero, un mezzo, un quarto, un ottavo e così via. Io sto utilizzando il mio flash a un sedicesimo, meno 0,7. Per cui è una potenza, diciamo, intermedia, è una potenza non particolarmente spinta. Tenete conto che, per darvi un ordine di grandezza, innanzitutto questo è un flash con un numero guida di 43 su ISO 100. Il numero guida è un parametro che serve effettivamente a capire quanto è potente il nostro flash parametrato sugli ISO 100. Poi ho sentito dire che ci sono produttori un po' più truffaldini che ti dicono un numero guida in realtà è parametrato su ISO 400, così sembra molto più potente. Però prendo per buono quello che dicono i vari produttori. Soprattutto questo trattandosi di un flash di Canon sono assolutamente convinto della buona fede. numero guida 43, quindi ha una potenza che è più che sufficiente per il 98% degli utilizzi che ne faccio io e quindi va benissimo per eventi, va benissimo per still life, va benissimo per la stragrande maggioranza delle cose. Normalmente quando io scatto a f8, quindi con un diaframma bello chiuso, imposto un mezzo di potenza e questo mi garantisce la luce necessaria per rischiarare il mio ambiente con un diaframma piuttosto chiuso e con una velocità di scatto che sarà di un centoventicinquesimo e probabilmente con un valore ISO che sarà tra i 100 e i 400. Quindi con un intero o un mezzo ho la luce che mi serve in una condizione di quel tipo. In una situazione come quella invece che vi ho mostrato poc'anzi, ovvero la fotografia alla mia bellissima miccia, tenete conto che io sto scattando con un'ottica da f1.4, il mio bellissimo 85mm che ho già recensito, vi lascio il video linkato da qualche parte se vi interessa. Quell'ottica ha così tanta luce che non mi serve tanta potenza sul mio flash e questo ovviamente va a rapportarsi con l'ottica che state usando. Se avete un'ottica con un'apertura maggiore, meno potenza sul flash. Se avete un'ottica con un'apertura inferiore, purtroppo più potenza sul flash. Detto questo però, io che cosa vado a fare con questo flash? Vado a dargli una potenza bassa, quindi circa un sedicesimo. Questa potenza bassa con i parametri che sto utilizzando non va a influire tanto sull'esposizione. Infatti io adesso vi mostro una seconda foto e vi dico che queste due foto sono state scattate esattamente con gli stessi parametri. Io non ho modificato i parametri in macchina. Ho soltanto acceso il flash. E l'ho fatto apposta ovviamente. Ho fatto prima una foto e poi l'altra consapevole del fatto che le avrei usate per fare questo video. Quindi la prima foto la vediamo è senza flash. La seconda foto ho introdotto un flash con una potenza non esagerata. Quella potenza per quanto sia poca è più che sufficiente a dare un lampo di schiarità e questo lampo di schiarità ha come effetto principale non tanto un cambio di esposizione è un pelino più chiara in certe parti certo e ci sono delle ombre in altre parti perché la schiarita provoca delle ombre sul lato opposto questo è ovvio. Però l'effetto principale che ha è che vada a amalgamarmi meglio i colori. Ovviamente quando vado a fare un giochino di questo tipo il mio bilanciamento del bianco in macchina se è automatico viene influenzato dal fatto che sto usando un flash quindi la macchina in qualche maniera sa che sto usando un flash andrà a utilizzare un parametro che sarà una via di mezzo tra quello che legge con le TTL e un parametro dedicato al flash. Normalmente io sono abbastanza sereno a impostare direttamente un parametro adatto al flash in questi casi perché l'esposizione più o meno è già giusta così e la luce del flash sarà quella che andrà a darmi il colore che voglio e quindi con un 5200-5600 Kelvin di solito ottengo esattamente l'esposizione che voglio. Vi porto questa esperienza perché di recente è una cosa che sto facendo veramente molto e con mia grandissima sorpresa è una cosa che sto facendo molto proprio con l'85mm f1.4 con mia grande sorpresa perché? Perché un'ottica del genere ha tantissima luce e quindi io non pensavo che avrei usato il flash con un'ottica del genere perché ho sempre pensato con un'apertura del genere non mi serve il flash scatto bello sereno e chi se ne frega e invece no perché mi sono reso conto che per quanto la luce sia giusta l'esposizione è corretta ma il colore no e andando a inserire questo piccolo trucchetto io risolvo questo problema lo risolvo molto bene nel senso che a questo punto le mie foto non sono solo belle scattate bene con un'apertura molto grande quindi con un bello sfocato ma hanno anche un bel colore direttamente in macchina e questo vuol dire tanto per me perché significa che quando torno a casa pressoché sono già pronte non devo più fare praticamente niente ora attenzione questa è una cosa che in certi casi può andare bene in certi casi può non essere quello che vogliamo vi faccio vedere delle altre foto scattate pressoché con gli stessi parametri in tutt'altra location e come potete vedere anche con tutt'altro soggetto in questo caso non è stato usato nessun flash per almeno due ottimi motivi il primo motivo è che il soffitto era troppo alto quindi non sarei riuscito a farlo rimbalzare correttamente e l'effetto non sarebbe stato altrettanto gradevole altrettanto incisivo inoltre le pareti del locale erano di mattone e quando io rimbalzo una luce flash su una superficie bianca ottengo il colore che voglio ma se io rimbalzo il flash su una superficie colorata ottengo di introdurre una maggiore dominante cromatica quindi sarebbe andato assolutamente contro il mio intento di mantenere il colore più puro possibile l'utilizzo del flash in un contesto del genere in secondo luogo questa è un'immagine un pochino più teatrale un pochino più drammatica dove secondo me secondo noi il colore naturale della luce presente in sala era meglio abbiamo deciso di lasciarla il più naturale possibile di non snaturarla introducendo altre cose di cui avremmo potuto pentirci in seguito inoltre queste immagini sono state poi anche virate in bianco e nero con una punta di blu quindi a questo punto andare a lavorare a fare fatica per il colore non avrebbe avuto assolutamente senso bene amici io non mi dilungo oltre a questo punto vi chiedo fatemi sapere nei commenti primo se notate la differenza di qualità o quant'altro tra la R6 e la R7 che uso solitamente fatemelo sapere in un commento fatemi anche sapere se conoscevate questo trucchetto con il flash se lo utilizzate se ve l'ho fatto scoprire io lasciate un like a questo video soprattutto se ve l'ho fatto scoprire io e vi ricordo anche di iscrivervi per non perdere futuri aggiornamenti su argomenti interessanti come questo come sempre io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e io e il flash di Canon vi diamo appuntamento al prossimo video a più a